Sono Tiziana di Castenedolo e accolgo il vostro invito a raccontare tramite la vostra iniziativa il filo delle memorie la mia esperienza di questi mesi che io ho chiamato stagione Covid-19. Praticamente ho preso il mio cellulare e andando a ritroso nel tempo ho guardato le foto che avevo scattato da fine febbraio fino ad oggi e scegliendone alcune ho composto un video e come sottofondo musicale ho messo un canto che apriva la diretta streaming delle celebrazioni della parrocchia di Castenedolo e che resterà per sempre legato a questo periodo. No, non è andato tutto bene, io ben presto l'ho stracciato quel post-it che voi vedrete nel filmato, troppo dolore, troppo. A mia mamma che prega tanto, che prega da sempre, io ho sempre detto brava, brava, prega anche per me. E poi mi sono ritrovata a pregare da sola ed è stato un grande conforto. Sono riuscita praticamente in questi momenti a spalancare la porta del mio cuore e poi far uscire tutto quello che c'era dentro, l'angoscia, la paura, la preoccupazione, il dolore. E poi alla fine ho capito che non sono sola, anche se tante volte mi sento sola, ma non è vero, c'è sempre qualcuno che pensa a noi e che ci ama. Chiesa che nasci dalla croce, dal fianco aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità. Chiesa che divide la Pasqua, sei dallo Spirito redenta, vivificata dall'amore, resa feconda nella carità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, chiesa redenta dal suo amore. Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza, con la parola del Dio vivo, in mezzo al mondo, nella verità. Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia, stirpe regale gente santa, sei per il mondo segno di unità. dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. nella sua luce noi cammineremo, chiesa redenta dal suo amore.